oggi valivano i funghi portobello alla griglia vero? si. belli puliti non levate mai i funghi con l'acqua fanno carta sopra e sotto dove riuscite senza rompere che levate hai messo il sale grosso sotto? no come mai? perché sono più piccoli e sono più quindi chi vuole se lo mette ma sono già soppoliti questi si lo so perché tu hai usato la piastra che non attacca? la leggiatra vediamo in questo casotto parella e crocchetti di ceci e curcumare e carry e poi ahimè non mi prendete in giro sotto accetti è una fase di trasloco vero Anna? anche possiamo caricarci di rosa vero? buona domenica lo diciamo? eh? buona domenica non guardi perché c'è un flash ah si anche pure l'ho fatto io eh perché c'è un cittolino siamo un po' tipo un cappeggio però che puoi cappeggio mia lì? facciasi fare un cello non lo so ma rompendo c'è anche di me eh eh